Fra mi puoi teletrasportare? Cioè per teletrasportare è lo zombie Ma qua stava del pane, Fra Che non hai preso Fra ma nei barilli ci trovi le robe Ma ne andiamo, si aprecia la porta L'ho aperta? Cosa hai aperto? Quale porta hai aperto? La cellula? No, no a questa cellula andiamo Non mi colpire che muoio No ma io ti picchio Cosa cazzo c'è qua? Si però sto scudo del cazzo davanti alla troia ogni volta che mi abbasso Infatti io uso la texture per pipì che me lo fa piccolo E che palle Ah te lo fa piccolo Eh si Perché io di solito ce l'ho enorme No 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 a me me lo fa Proprio ti copre tutta la visuale Ah ok qua Qua ti puoi curare Ti curi lì Qua c'è la safe Aspetta ci ho dato la spalla Però pensavo fossero le Le pozioni di danno Quelle che ti tolgono due milioni di robe a colpo Non mi rubare le cazzo di cose Io mi crafto un'altra mela d'oro Dato che l'oro ce l'ho Ma come lo crafti la mela del cazzo? Dicevamo io mi crafto un'altra mela d'oro Dato che l'oro ce l'ho Come la crafti la mela d'oro? Mi crafto Io non posso craftarmi un cazzo credo Mi crafto una spada in ferro Così Cioè l'unica roba che posso craftare è Com'è che si chiamava? La polvere di osso che non mi ricordo come si diceva Fra come si diceva la farina di osso in inglese? Il bone meal Eh si il bone meal E la tintura blu che me la ficco nel culo così divento Oh qua ti puoi enchantare Io ho dei lapis Anch'io E mi servono i libelli Eh metto la mia spadina Eh Fra mi sa che c'è un boss Eh andiamo No Fra tu occupati dello zombie o dello stro Porco di è già morto Però ma perché non utilizzi l'ascio? E perché l'ascio me la tengo per il boss dopo No penso che era una cosa No a sto livello l'odio io madonna Che livello è? Eh tutto l'odio quando mi succede Oh no Tu fatti quello Tutti morti? Ma che cosa serve? Che cos'è l'alambicco? Con cosa si utilizza l'alambicco? Ah fai le pozioni Eh io che pozioni posso fare? Aspetta aspetta Forse posso farla Aspetta Che cosa fai? Dammi Forse con la piuma Ampolla da No Col cocomero Sì Aspetta fermo sto facendo Che cosa fai? Eh sì sto guardando io E mi sa quella di cura Credo Quindi io faccio due o tre Eh sì Ma tu da dove le hai trovate le ampolle d'acqua? Le ampolle d'acqua stavano nei barili Io prendo tutto Può sempre servire Io invece non prendo un cazzo perché mi rubi sempre tutto Dovrebbero uscire quelle Ah Che cazzo Cos'era quella E adesso io cosa gli metto qua? Il sesso Eh non c'è niente Vabbè sti cazzo Senti io che posso Servirebbero tipo Degli occhi di ragno Posso fare quelle di veleno Ah forse io ce l'ho Ah sì io ne ho uno di occhio di ragno Cos'hai tu? Dimmi Hai una gunpowder? Eh no Ah ma qua c'era una povera sparo Qua c'era Qua c'era una di cura già pronta Ah vale frasi Tieni 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 Qua io fa tutto tutto Io c'ho già una pozione di cura Qua stanno delle scale Su queste scale non c'è un cazzo Dimmi cosa hai? Dimmi che hai Due corde Due semi di grano Tre bacche dolci Due di grano Sette di carne e marcia Un occhio di ragno Due osso E una piuma Dammi l'occhio di ragno Tieni No non funziona Serve quello fermentato Vabbè Poi vediamo che si proviamo Che cazzo è l'occhio di ragno fermentato? Ok Formaggio No è fermentato Che cazzo vuol dire? Eccolo ragno Porco dio Ok Francia una spada di ferro inciantata Affilatezza Cinque Contracolpo due Porco dio E me la sono fottuta Isno No va bene Buono Così abbiamo tutti e due Un'arma OP Aspetta Me la metto Cioè non la uso subito No no Adesso utilizza No ma perché Perché per il boss Ci servono delle armi Di scorta Che sennò ci moriamo Vabbè Queste qua Queste freccele gollo Ok Spada di ferro Affilatezza cinque No ma non la usare Non la usare Usa quella di pietra Cioè Io c'ho quella di ferro E usa quello Non usare quella impuntata Se non la sprechi Vai Vai Fra stavo facendo flyare Lo zombie Ma No No Ah 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 Però ma si rompe lo scudo Se io lo utilizzo Sì Ah infatti Cioè ogni volta che paro i colpi Mi si rompe un pochino Un fra Un'armatura Dello stronzo Prendi bastone E questi due Aspetta no Il cuoio Me lo prendo lo stesso Allora Cinque Fra io c'ho la giubba di cuoio Ma che Ok Addio giubba di cuoio È stato un grande Dispiacere Aspetta ma io avevo preso Che cazzo Mi ha fatto tutto L'armatura Quella là Di ferro Vabbè Io no Ma la roba ad ora È più forte del ferro Ma allora È più forte del ferro Fra Ma dove c'è Quella in ferro Ma che cos'è Ripare Di si Di si Di si Incanta Eh mettici la Mettici la tua spada Quella incantata No no Non mi cas- No 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 C'è scritto Di si Incanta E io non voglio Di si Incarcarmi La spada Io ci tengo Molta la mia spada Ma Anzi No fra lo faccio Ho liberato un villager Sta flyando Ok L'ho anche ucciso Però vabbè Adesso Che mi devo mettere Questo in prima L'inio Vai vieni Torniamo sopra Che ha azionato anche il ponte Cazzo Porco dio Porca madonna Ok L'abbiamo attivato Vai vieni Però sai che esiste Una mappa Di minecraft Dove puoi giocare A minecraft Su minecraft Si C'è il controller Gigante Tu Premi I bottoncini Io vorrei Giocare la diversity 2 Cos'è che bello Fra ma comunque La mappa dei lacchi Verruche Buono Possiamo farci le pozioni Aspetta Gli occhi di ragno Belli Prendi anche le ampolle Le ampolle Anzi Anzi E prendilo tu Io non c'ho Spar Aspetta che lascio un po' di merda C'è finito Lo spar Ed avrà La carne marcia Ci può servire Non posso Fra il grano Le corde servono a qualcosa In sto gioco No Tipo A fare largo Abbiamo già Il balestra Vabbè la mia balestra C'ha tipo Due utilizzi E poi esplode Le ossa invece O le piume Le piume Fra servono a qualcosa Ma Fra Ma avevi un farcetto dorato È una zappa E Intendo Avevi la zappa dorata Sì Ma fa schifo Ma fa danno La La Ruba No Toglie tipo un cuore Non fa niente Vediamo fra Viene un attimo Voglio provare Fra Fa schifo Mezzo cuore E da Dammi tu un colpo Voglio vedere Aspetta Aspetta No 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 Non con quella Tieni Anche se io te lo do Critico Ah vabbè Non È vero Aspetta Aspetta Ah a me mi si è rotto l'elmetto È vero Mi equipaggio Questo Sti cazzi Faccio così Direttamente E Ok E E E Ah 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 Sì Mi si mi Esimi E Da Com'era Che cosa sono adesso dimmi che cosa sono mi piace la minchia a questa è un'altra cosa che abbiamo in comune tipo tipo odio la ficca ma non se ne va e quindi la trombo per forza posso restare con te per favore natura natura naturalmente davvero sì non abbiamo aperto di qua non sto capendo più un cazzo non si capisce una sola di niente non sai e che cazzo c'è dietro io sono caduto giù ma che zaccamolo madonna tocco li zombie e le persone belle ma veloce ritrasportami brutto bastardo dai fra pensavo mi avesse ammazzato uno scheletro fino al minuto in quando ho letto lupo solitario vaffanculo oh cazzo la mia squadra di ferro sta arrivando al limite please help guardami qua ma perché c'è il tuo falcetto della minchia in mano nell'ano l'hai ripreso il falcetto No, non ho ripreso Ah, con la freccetta in basso Troppo le robe Tra lì che qua c'è il boss Che cazzo hai rubato da qua dentro Non c'è un arco Un arco come? Normale? Si Oh che cazzo Che cazzo è questo? I demoni Fra cose Oh cazzo C'è il signore? Brava Bra io vado a spada Tra utilizzo la spada quella potente Bravo Ho ammazzato Mi ha dato un coso di quelli che ho mori Eh si E anche uno smeraldo Che io ci sono Un porco di Aspetta Che Ah fraccio la polvere da sparo Ok a posto abbiamo vinto Vai Oh La sborra Oh la sborra Oh no Uh il pane Cotoletta Ah le cotolette Possiamo farci il pranzo Possiamo farci anche le pozioni Sì ma possiamo farci il pranzo Sì ma possiamo farci il pranzo Allora che pozioni Che pozioni facciamo? Che cazzo ira Eh? Aspetta posso fare così però Fra sai che mi è venuto il tumore al piede? Cosa? Cosa? Ma? Ma? Che cazzo? Non andare là Laddove? In quel Qui? Non c'è andare Che cazzo sta? Fra? Cosa? Fra? Fra? Fra perché non devo andare qua? Non fa un cazzo Guarda Fra? Vai dove sta l'acqua L'acqua? Perché sono delle lettere sul plate? Oh vuoi andare? Fra poi ti detrasportarmi Ararmi Sì ma come passiamo avanti? Fra ho aperto il cazzo di coso Da qui si passa Trimone Aspetta che mi faccio un'armatura Un sega Ma sì sono col ferro almeno Non come te che fai sboccare No fra io sono Due di ferro Uno di cuoio E uno d'oro Dove sei al lecchino Sì Fra da me sono degli slime Ma gli slime in piccoli non fanno danno Ho capito che livello è questo Vabbè io non dico niente Cazzo Che cosa? Cosa? Porco il dio Eh porco Aia Ma guarda una strage Aia 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 Morti Ok Morti No Che cazzo Ah Ah Ok c'è la testa Un pene Dobbiamo evocare il wether Aspetta c'hai 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 la testa Ma c'hai anche Fra fra oltre la testa c'è anche il pene Dobbiamo evocare un wether comunque Se c'hai capito All'attacco All'attacco Comunque il motoria mi ha messo sette Mi godo Cosa me ne fotte a me C'hai sospigami C'hai sospigami Quale domanda a ricondestranto che motori ti ha messo sette C'è fra un mio amico Che ha fatto Quando abbiamo fatto il test Ha fatto la normalissima giornata Ah Io ho messo sette e mezzo Fra e mezzi la Ah Figo fra io la prossima volta che vado in palestra Mi faccio prendere una bella stortona Uh Fra ma servono a qualcosa le Le palle di gelatina No Ho un cazzo di niente Ma tu fra minecraft ce l'hai in inglese Sì Ah Eeeh Un pene Una cassa Che posso aprirmi senza Andrea Uh Minchia quante cose sta Madonna Vabbè Mi devo scontrarmi e diventare un libro Perché mi metterò una minchia Allora questo va qua Allora Fra servono a qualcosa i semi di grano No Fra Fra Oddio Un disco Anzi no le ossa mi servono Ah dobbiamo trovare tre teste Io ne ho una La metto Fra C'ho un'altra Però non è di guider Di schede trebassa Eh no Serve quella di guider Fra ma Praticamente in giro Ci sono delle casse con sopra una testa Di guider Tu aprirai dentro c'è la testa Ok Ah ok ho capito cosa devo fare qua Ma tutto dove stai? E sono praticamente in un'arena E devo ammazzare e devo ammazzare tanti guider finché non mi droppano la testa Tu trova l'altra cosa L'altra cosa l'altra arena L'altra testa Fra io sono Io sono qua Si ma è andata Ok a po' Arrivando Ok Faccio qua Ma da qua si può andare da qualche pa Aspetta Ma cos'è? Che Fra? Ma da me c'è tipo un ragno strano Aspetta prendo lo screen Sembra bello Fra da me c'è un ragno strano tipo verde con delle robe rosse sopra Ah e sono quelli mordati Ovvero che fanno sti ragni Se ci attaccano ti fanno il veleno Ah Ma fanno un botto di danno il loro morso Togli tipo quattro cuori il loro morso Ah Perché continuo a prendere danno pure se non effetti? Perché ti ha attaccato il veleno No Fra non avevo il del veleno Ma i cuori verdi? Eh no Cioè All'inizio ce l'avevo Poi non ce l'ha avuti più però ho continuato a prendere tipo tre cuori di danno Perché là è il cancro Ah è vero il tumore Aspetta Sta splendida creatura Ma se io sto fermo non mi attacca Fra ma dove stai tu? Fra Ah no c'è C'era il nostro Fra ma dove? Fra ma dove minchia sei? Sottrono le teste Ma dove sei? Fra? Ho trovato l'ultima testa Oh aspetta Ah no Ma qua ci siamo già passati di qui Pozione di apnea Buono Ovvero che non muori di cancro quando vai nell'acqua Esattamente Torna Aspetta ti vedo Porco Oh Che dovevamo fare? Vi 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 qua vi qua Dobbiamo fare un rituale vi Oh io ho trovato le altre due teste Quindi adesso le dobbiamo andare a mettere In modo da si Allora Io te ne do uno Prendi Allora io metto questo Ok devi mettere quella al centro E lo evochi Ok Ok No Non spero No Stai zitto Crimone madonna Stai zitto Non mi picconare Dov'è che la do mettere? Qua sul blocco d'oro Oh cazzo Ok si è aperta Ah come le gambe di tua madre Ah no No ancora di sua sorella No Quella di tua sorella Frati ti do un arco fortissimo Non per niente distrutto Ma lo approccio Mezzo utilizzo Anzi fra C'ho lo stesso utilizzo del mio arco Che utilizzo in questo momento E combinali In che modo si combinano? Premi Apri l'inventario Vedi che c'hai quattro Quadrati Sì la fabbricazione Eh mettici due archi Ah Ah ma allora sono tra maun Potevo sommarli Fin dall'inizio Solo che tu non me l'hai mai detto Perché sei guy E co di io Ah io Nan Con i cancroni Sì Zon Ah, il 3 frame Ah, sì, le pozioni Ah, sì, i frame Ah Che cazzo era? Se vedo che mi hai fottuto le cose Fra, io lascio qui tutti i miei materiali Fra, ma questo è per sureplate Cosa fanno? Sì, io le tocco Cos'è che fai, fra? Lasci qua tutti i tuoi Materiali Materiali di che cosa? Tutte le cose che ho trovato, tanto qui ti rimangono Perché la tua cassa Le lascio anche io No, perché l'Enercess è tipo la tua cassa privata Cioè io non posso toccare quello che metti tu Ah, è vero Lascio tutte le cose che in questo momento no Ehi No, voglio vedere una cosa Perché E infatti Questi ti scambiano Ma che te la chiesa? Questo ci dà il pane per gli smeraldi Ah, io ce l'ho il pane Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? No, questo ci dà... No, ti... Cioè tu puoi comprare il pane da lui Ah, con i smeraldi No, c'è spero, me lo... me lo compro mo' Dov'è fra il tizio? E devi andare dove sono le prescelte Cos'è? Oh, e tocca le... Mi sembra il portale... Quello dove stava l'Enchanting Table Non questo Fra, tu vieni nella pizza, sì? No Perché? Sì, vengo Ok Fra, ma... Ah Questo qua... Ok, aspetta che mi incanto la spada Affilatezza 1 Beh, buono E mi incanto l'arco, magari Cacchio! Stupido No, sono stupido Mi dovevo incantare l'arco Perché adesso dobbiamo fare... Dobbiamo fare il leader Era il leader ruola Quindi dovevo incantare l'arco Eh, anche Cioè io... Cioè io c'ho già la palestra incantata È l'unico problema È che ci vuole 3 anni e 37 millenni Per caricarla E poi fa io... E poi la mira che ho io con... Sì, te ne do una Che è un po' rotta Ma tanto so qui C'è un po' di charge Cioè la ricarica rapida Non le combinare Non le combinare Ma perché? Si toglie l'incantesimo Non le combinare Ah Ok Ma tanto Fra perforazione A me non serve Perforatura contro il demone Cioè contro il leader Cosa mi serve? Ah niente Però sai qui Charge In quella Ah vai Ok Cioè ricarichi più veloce Guarda che ricarico la freccia intanto Ma? Ma quanto... Più veloce Sì, problema è che tipo Ha caricato tipo 40 Tipo 40 frecce Aspetta Fra ma quattro volte ricarica la palestra questa qua Fra ma dov'è? Ciao Ok Stavo per dire... Ah! Vai nell'acqua 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 Questa è la festa del paese Sì, è la festa del paese Alle 6 e 30 Ci scateniamo a perdifianco Porca ma... Che succede? Che succede? Che... Ma porca Che succede? Che è successo? Che non si capisce un cazzo! Perché c'è un bilacezzo? Ah! Ahia Ok, è morto Fra dove sai? Cazzo di merda No, c'è una roba per le pozioni Cioè le... Le robe di... Robe per le pozioni Robe per le pozioni Ah, il cazzo... Duroni Ah, mi sa che la zappa ci serviva per prendere le verruche Eh, ce l'ha ancora fra la zappa Ah, me la passi? Ma anche... Anzi, naturalmente Ti ammazzo, me la prendo dal tuo cadavere poco e sporco Non puoi prendermela Però ti posso sponchillare finché non me la darai No Ma dove stanno le verruche, fra? Quelle... Fra! Fra, dietro di te! Ci sono quelli delenosi Ma... Cosa mi ha droppato? Uh, un'ascia di ferro che ha un utilizzo Figo Fra, mo' l'ascia di spona dentro all'inventario Fra, però anche la mia spada sta morendo un po'... Che cazzo... Dammi la zappa Fra, che cazzo hai fa? Fra, non ti vedo neanche! Vedo i pixel! Fra, vedo i pixel! Dammi la zappa! Dammi la zappa! Dammi la zappa! Dammi la zappa! Dammi la zappa e potrai muoverti! Dammi la zappa e potrai muoverti! Adesso, dove sono lì? Fra, dove? Fra, dove? Dove sono lì? Fra, dove sono lì? FRAAAA VEDO LA TERRA Dove ca- Cos'è sto pixel marrone? Non mi l'ho zato Non vedo un cazzo Ok adesso vedo Il tuo scu- Grazie fra Oh adesso non vedo Vai ritrasportami da te Te Oh e ritrasportami Perchè? Spiegami solo il perchè Ti piace la minchia? Vabbè e quindi ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Iscrivetevi Eh si Oh un ottimo Quindi ragazzi Condividete il video Lasciate un like Commentate Iscrivetevi E direi che ci possiamo vedere al prossimo video Ciao ragazzi Sti grandissimi cazzi Ciao 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 Ciao